Paolo Cascaimile, parla di questo importante progetto del basket San Giovanni Rotondo che ha vinto la funzione di due realtà locali, con quale obiettivo Paolo? Allora, partendo dal presupposto che il passo in avanti fatto da entrambe le società è stato notevole, considerando che unendo le due realtà Stella Verde Basket San Giovanni Rotondo e Frassati Basket San Giovanni Rotondo presenti nel territorio, la Frassati storicamente da più di 20 anni e la Stella Verde da 5, il passo in avanti è stato notevole per tutto il movimento cestistico, l'obiettivo è stato proprio quello che considerando che aumentavano i numeri, unendo le organizzazioni di entrambe le società, chi ne poteva giovare maggiormente erano appunto i ragazzi e le famiglie che frequentano i corsi. L'obiettivo principale è la crescita dei ragazzi tramite la pratica della pallacanestro, quindi con lo sport come veicolo anche per la crescita del ragazzo. È stata voluta la decisione di non fare campionati per i grandi, di concentrarsi completamente sui bambini? Sì, non proprio bambini, allora non abbiamo bloccato quella che era la prima squadra della Frassati, l'abbiamo sospesa, cioè siccome il nostro progetto è legato principalmente alla crescita dei ragazzi, noi ci siamo trovati praticamente ad affrontare il campionato Under 18 sotto età, quindi il campionato per i 2002 con la maggior parte dei ragazzi 2003. Una volta che terminerà il percorso anche degli Under 18, allora di lì si può iniziare a pensare a fare una prima squadra di buon livello. Naturalmente per poter pensare a fare una prima squadra di un certo livello abbiamo bisogno anche di coesione nel paese per quanto riguarda le attività commerciali che hanno voglia e possibilità di investire nello sport e investire nello sport spesso vuol dire investire sulla crescita dei ragazzi e per tutto il giovamento e per tutto il paese. Sentiamo da Alberto Radeglia. Armando Radeglia. Armando, scusami. Armando, come hanno reagito i ragazzi a questa fusione? Come stanno reagendo a questa nuova organizzazione che vi siete dati? Hanno reagito tutti quanti bene, finalmente è stata una scelta giusta e giova comunque giustamente come hai detto tu i ragazzi e c'è moltissimo entusiasmo e siamo veramente contenti di questo. Bene, allora grazie e buon lavoro. Grazie a voi.